buongiorno ragazzi oggi penultimo giorno domani dobbiamo prepararci per partire la sera ci troviamo all'ultima spiaggia di Campolongu abbiamo scelto questa qua come ultima spiaggia perché il mare è stupendo la baia è sempre abbastanza tranquilla come riguarda il mare diciamo che è calmo la spiaggia è affollata no non sto facendo il blog sto facendo una ripresa per ricordare l'ultimo giorno c'è l'ultimo giorno di questa vacanza in Sardegna il 2K4 2019 il mare è stupendo come sempre le mani chiedo che te l'ho presa mamma stai sistemando la notte con il tuo nome allora penso di sì abbiamo mattiglia e il negro andiamo a chi riesce a fare una riusciata più bella dai un tiro a volo qualcosa vai ma ne provaci dai Giulia va a prendere la palla ricordiamo che ieri il Napoli ha battuto la Fiorentina 4 a 3 partita di l'Ukambulisca come cazzo si dice stupenda con i padri d'animi proprio spiegato che si andava a pezzi però l'importante è vincere buona la prima forza Napoli sempre intanto dentro esce qualche nuvola vai non ce la fai lì